Vedremo in seguito quando e come questi due metodi, cioè la luce diffusa e la luce riflessa, trovano i loro impieghi ottimali. Per il momento vediamo come funzionano i principali modificatori di luce. Nella slide che vedete, sulla parte sinistra, possiamo vedere i modificatori per diffondere la luce. In alto trovate l'ombrello in diffusione. Come funziona l'ombrello in diffusione? C'è la sorgente di luce, per esempio un faretto già orientato con la propria parabola, che emette luce. La luce colpisce l'ombrello bianco, ne assorbe una piccola parte, ma aumentando la superficie otteniamo una luce morbida e delle ombre sfocate e molto gradevoli, per cui la luce attraversa l'ombrello. In basso troviamo il bank, che si basa grossomodo sullo stesso principio dell'ombrello, in modalità diffusione, solo che ha meno dispersione laterale, a differenza dell'ombrello, perché le sue pareti scure libitano il flusso di luce emessa dal faro solamente alle sproprie dimensioni. In commercio ne esistono di un sacco di forme e dimensioni proprio per ciascun tipo di fotografia, che può andare dai ritratti alla fotografia di oggetti, alla fotografia di bottiglie e per ciascun tipo di applicazione esiste un bank con misure e forme specifiche. Nella parte destra invece vediamo i modificatori per riflettere la luce. Sempre in alto l'ombrello, però stavolta in modalità riflessione. Come funziona l'ombrello in modalità riflessione? C'è sempre il faro che emette la luce, ma questa volta l'ombrello è nero opaco e non si fa attraversare, ma la riflette. Il suo interno infatti è di un materiale riflettente, di solito argenteo, e si comporta praticamente come un'altra cupola che continua a direzionare, solamente che ha delle dimensioni maggiori, per cui restituisce sempre una luce e delle ombre morbide nella direzione contraria a quella da cui è partita. Naturalmente le luci e ombre saranno molto più morbide perché la superficie dell'ombrello è maggiore rispetto a quella della sorgente. In commercio esistono dei kit composti dallo scheletro dell'ombrello, sul quale poi possiamo applicare, possiamo chiamarlo il proprio vestito, che è bianco e traslucido se lo vogliamo usare in modalità diffusione, oppure nella confezione viene sempre fornito, solitamente, anche il vestitino nero con l'interno argenteo, ideale quindi per l'uso in riflessione. In basso a destra potete vedere un pannello riflettente, sul quale la luce è stata fatta prima rimbalzare e poi, visto che anche in questo caso la superficie è maggiore, ammorbidita.